Anna Sciangula, candidata per la lista con noi con Salvini, nel collegio prunominale Camera Sicilia 1-03, che comprende Agrigento, Caltanissetta e Mazzara. E con riconoscimento anche per i tanti anni di militanza svolta, come mai? Quali saranno i suoi programmi per catturare anche il voto di tanti elettori? Io sono veramente orgogliosa di questo riconoscimento che mi è stato dato. Sono tanti anni, gli agrigentini lo sanno, che faccio politica con passione civile, col cuore, con perseveranza. Ci ho sempre creduto. Prima che agli uomini ho sempre creduto alle mie idee che non ho mai tradito. Sono grata a Matteo Salvini, ma anche al coordinatore regionale per la Sicilia occidentale Alessandro Pagano, perché hanno creduto in me. La militanza nella Lega Salvini Premier non è così lunga, però ha avuto modo di stare a fianco di questo grande leader, Matteo, quando è sceso per il suo Sicilia Salvini Tour, dove non ha voluto fare né cocktail né grosse manifestazioni, ma ha voluto dimostrare che voleva toccare con mano i problemi dei siciliani. Da questo famoso viaggio in treno, da Trapani ad Agrigento, che è stata un'epopea, a toccare con mano i problemi dell'acqua, dell'agricoltura, piuttosto che fare questa passeggiata sulla scala dei turchi per puntare i media nazionali sulla bellezza della nostra terra, che non merita sicuramente di essere sulle cronache per gli sbarchi fantasma o per il grave problema dell'immigrazione. Mi hanno dato questa grande opportunità perché sono seconda al collegio plurinominale Camera della Sicilia 103, che sarebbe questo collegio che va da Mazzara del Vallo a Gela, seconda dopo Alessandro Pagano, appunto, che è anche candidato al collegio plurinominale Palermo. Quindi questo si lega a un progetto più ampio che vuole rilanciare l'economia e il lavoro. Economia e il lavoro che possiamo rilanciare con uno shock economico che passa attraverso la tassa unica flat tax al 15%, come è stato fatto in Russia ma anche da Trump in America. La pace fiscale che sarebbe un rivedere per tutta la gente che non ce la fa, i piccoli imprenditori, i piccoli negozietti, tutte quelle cartelle sattoriali sotto i 100 mila euro che vanno azzerate con un pagamento di 15% e si ritorna a vivere, a rispondere al telefono senza le vessazioni. Rivedere il discorso immigrazione perché non è possibile che l'Italia spenda 5 miliardi annui per l'accoglienza e gli affari di molti, cioè di pochi e però di una certa struttura e questi 5 miliardi devono essere usati soltanto in piccola parte per quello che è il rimpatrio. Ci teniamo solo il 5% dei profughi che sono pronti ad accogliere a casa mia a fargli il piatto di pasta insieme ai miei figli, il resto li rispediamo a casa e questi soldi li utilizziamo per gli asilini idrogratuiti e diversamente abili per tutta la nostra gente che sta male e che ha bisogno. Infine, l'ultimo punto, l'abolizione della legge Fornero, perché soltanto mandando la gente a casa riposarsi prima meritatamente a godersi i nipotini possiamo rimettere in moto il lavoro e dare lavoro ai giovani che possono immettersi nel mercato del lavoro prima. Una ricetta che non dà miracoli all'Italia ma che dice cose concrete attraverso le quali poche ma buone si può veramente fare ripartire il Paese. Io ci credo.